Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Splatoon per l'ultimo episodio della modalità storia Ok ragazzi non vedo l'ora di affrontare il boss finale, l'altra volta abbiamo terminato tutte le missioni dell'ultima piattaforma Oggi direi di andare subito ad affrontarlo, volevo vedere un attimo però i potenziamenti con voi perché direi di migliorare un attimo la pistola visto che abbiamo un sacco di palline Poi vediamo il serbatoio, ci servono 800, le bombe 300, la granata 100, potenziamo queste bombe qua e sblocchiamo magari anche queste qua Perfetto Ok ragazzi lanciamoci in questa missione finale Perfetto Eccoci qua, scontro finale, l'arrivo del re polpo bot Eccoci qua signori, attenzione C'è il super pesce scossa là in fondo, sei tu numero 3, non ti avvicinare, è una trappola Lo sapevo, in ogni caso non possiamo lasciarlo legato come un'esca Ok avviciniamoci verso il pesce scossa Ok Attenzione Ah caspita E' stato risucchiato da un'altra macchina Vediamo 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 Chi c'è? Eccolo qua Il re polpo bot Eccoci qua per lo scontro finale Vediamo se ha qualcosa da dirci Ora mi riprenderò ciò che è mio Va bene ragazzi, si parte Attenzione Attenzione Ok Per il momento dobbiamo difenderci Ok lanciato un guanto Attenzione a questi Ecco un altro guanto Ok Dobbiamo respingerli Perfetto Me ne vado su quest'altra piattaforma Sarà una bella sfida Mi avete detto tutti quanti che è molto molto difficile come boss Attenzione Attenzione l'altro guanto Ok Un è andato Ok Prendiamoci le palline Attenzione Attenzione No Sono cascato giù Eh caspita Mi ha spinto Tantissimo Dobbiamo rifare sto pezzettino qua Ok Devo cercare di non morire Uno Due Ok Vai 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 Colpito Allontaniamolo Allontaniamolo da qua Vediamo Hop Hop Attenzione Il guanto di qua Eh caspita È riuscito A farlo arrivare Fino alla fine Ok Vai 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 Mamma mia Per un pelo Per un pelo Ok avviciniamoci qua Ottimo Non ho inchiostro Accidenti Non ho inchiostro Devo ricaricarmi un attimo Eh perché lancia quelli lì per Ecco il guanto Vai Ok Colpito Colpito e affondato Coloriamo la piattaforma di arancione Ti ridurrò in un totano Probabilmente adesso aumenterà gli attacchi Cos'è questa roba qua? Ok Niente Attenzione Non ho visto quelli Ok Rispingiamolo Attenzione Sempre a questi Ah me lo manda ancora una volta Perfetto Colpito Ma non affondato L'abbiamo però colorato di arancione Adesso dove caspita Dobbiamo andare Prendiamoci anche quella pallina là Ah qua Dobbiamo andare Dobbiamo spostarci di piattaforma Ok Diamo una colorata generale anche qua Attenzione Sempre a questi Attenzione al tintofono Quindi caspita Utilizza pure il tintofono Ok No 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 Eh no Questo guanto qua è andato A segno Non è facile Non è facile Ma me l'avevate detto Dobbiamo stare pure attenti Al tintofono Ecco il guanto Uno E due Ok Perfetto Avevo quasi finito l'inchiostro L'abbiamo allontanato Per il momento Cambiamo Piattaforma Protezione Che io prendo molto volentieri Se riesco No Rimandiamogli indietro questo Ok Coloriamo un attimo qua Io direi di rimanere ancora su questa piattaforma qua Se possibile Rimandiamogli indietro il guanto Uno E due Perfetto Ok mi sposto su quest'altra piattaforma Una pergamena Che io prendo subito Ok Vai Guanto di qua E guanto di qua Mamma mia ragazzi Mi sento come Goku Nel duello con Vegeta Quando aveva respinto il raggio di Vegeta L'attacco Big Bang Se non sbaglio Con la Con l'onda energetica Mamma mia Mamma mia no Ho finito l'inchiostro Accidenti Ho finito l'inchiostro Ok dobbiamo ancora stare qua O almeno ci conviene stare qua Vai 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 Ecco l'altro guanto Mamma mia Ok Possiamo procedere Direi di sì Yeah Ok Vai Perfetto Ottimo lavoro Vediamo cosa decide di fare Ah non è ancora finita Non è ancora finita Via questo viola Continua a utilizzare questo tintofono È abbastanza fastidioso Ok Ah ci sta rimandando quello di prima Dobbiamo respingerlo Ok Attenzione questi Vai Ok Ancora uno Perfetto Colpito Mamma mia per un pelo Mi sono dovuto spostare Adesso vediamo dove va lui Ok Se ne sta andando di là Perfetto Ok Non è per niente facile Cos'è che c'è qua Un'altra protezione Va bene Ah il guanto Il guanto di qua Ok Perfetto L'abbiamo allontanato Ok Io direi di stare ancora Su questa piattaforma Attenzione Al tintofono Mamma mia Mi ha sfiorato Ok Ok Sta lanciando di nuovo Questi qua Attenzione Il guanto L'altro guanto Perché ne lancia sempre due Ottimo lavoro Veramente un ottimo lavoro Direi di rimanere ancora qua Ok Altri due pesci Adesso ne manda quattro alla volta Il guanto L'altro guanto Perfetto Direi che possiamo salire L'abbiamo allontanato abbastanza Ok Ok C'è un'arma speciale Attenzione Però Attenzione Che sono Nemici Accidenti Mi ha tirato via La protezione Ok Ok Attenzione Il guanto E adesso Mi sta Un attimo Massacrando Ok Posso colorare Quella roba là No Non ci arrivo Ok Lasciamo che usi Il tintofono Altri Ecco il guanto Vai Dai No 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 Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Ho avuto un attimo Di indecisione Attenzione Il nemico qua Ok Per fortuna Siamo riusciti A eliminarlo Velocemente Ok Vai Il guanto Mandalo via Non ho più inchiostro Accidenti Non avevo più inchiostro Non ho potuto fare nulla Via Tintofono in azione Ok Vai Buonissimo Signori Buonissimo Ok L'abbiamo allontanato Ok Uno l'abbiamo preso Vai di tintofono Ricoloriamo sta zona Ok via Vai Vai Ok Ottimo Abbiamo sfruttato Questa palla Di colore Attenzione Distruggila Mamma mia Ho di nuovo sfiorato Il tintofono E eliminiamo quello Aia Stanno arrivando Ok Ok Ce lo manderà Ancora una volta Perfetto Perfetto L'abbiamo sconfitto Anche su questa piattaforma Mamma mia Che battaglia Lunghissima E' una Veramente una battaglia Lunghissima Perfetto Passiamo ad un'altra Piattaforma Ok Guanto Altro guanto Diciamo che è abbastanza Ripetitivo Però è forte Anche se è ripetitivo E' comunque forte Ok Dobbiamo distruggergli Sempre quello Questi qui possono anche Schiantarsi al suolo Ok Guanto Altro guanto Perfetto Ok Attenzione Che sta diventando Tutto invisibile Protezione Presa Ok Mandiamolo via Da sta zona Eh Uno si è schiantato Ma non importa Ecco il guanto Mamma mia Per un pelo Per un pelo Ok Stiamo ancora Su questa piattaforma Un attimo Dobbiamo distruggere Questi Via sta sfida Spera Ok Ecco il guanto Che parte Uno E il due Eccolo qua Perfetto Direi di procedere Vedo qua in fondo Prendiamo questo Il turbinator Può veramente Tornarmi utile Andati Ok Guanto Eh Però è andato a segno Il secondo No però Ok Eliminati Entrambi Attenzione Il tintofono Anche perché Le piattaforme Si stanno Leggermente Restringendo Ok Distrutti Tutti quanti Ricaricato L'arma Vai Vai No Accidenti Per un pelo Per un pelo Prendiamo Prendiamo questi Al volo Ok Questi qui Si sono schiantati In quella zona Lì Facciamoli fuori Ok 3 su 4 Vai Vai Ottimo Ok Strada invisibile Perfetto Distruggi questi Ricarichiamo Velocemente Guanto Guanto Ok Non so se andare Su quella piattaforma Là O aspettarlo Qua Aspettiamolo Magari Un attimo Ancora qua Preso Ok Vediamo Cosa fa Adesso Magari Mi sposterò Sull'altra Piattaforma Perfetto Andiamo Pian pianino Ok Colora Tutto Di arancione Attenzione Che si sta Restringendo La piattaforma Si sta Restringendo Vai Perfetto Doppio colpo Vediamo Cosa decide Di fare Il tipo Stasera Banchetterò Con tempura Di calamaro Ok E immaginavo Che usasse Quello No Caspita Andato a segno Niente Dobbiamo rifare E' una bella battaglia Però Eccolo Che arriva Vai 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 No Caspita Era velocissimo Accidenti Non mi aspettavo Fosse così veloce Ok Dobbiamo rifare Che era veramente Veramente Veloce Lo lancerà No Si Lo lancerà Di nuovo Si vabbè Prima che arrivi qua Il primo lancio E' lentissimo Poi è Abbastanza Veloce E l'ultimo E' velocissimo Perfetto Ottimo Colpo Anche qua Siamo Sopravvissuti Ti vengo a prendere Ciccio Ti vengo a prendere Ma questa Canzone Che Caspita C'è scritto Stai usando La ricce Trasmittente Al contrario Bleh Ma Questo Che cos'è Questa dolce Ok Ok Preso Più importante Questo Via Ok Eliminato Subito Mamma mia Ragazzi Che musica Mi sta caricando Come non mai Perfetto Via Via dalle scatole Ok Per fortuna Un'altra protezione Ci voleva Ci voleva Via anche questo E quello Non ho preso Però lo facciamo Subito fuori Via Ok Guanti in arrivo Guanti in arrivo No Ok Per fortuna Mamma mia Mancava solo Un pelo Perché si schiantasse Al suolo Ok Potere speciale Via Perfetto Eliminato Ok Evitati Guanto Guanto Usa sempre Le stesse mosse Comunque Usa sempre Le stesse mosse Più che altro Mi sto preoccupando Perché la piattaforma Qua si sta restringendo Come non mai Ok Ciao Non ti lascio Neanche spawnare Via Fai partire Il guanto Ottimo Ottimo Ok Caspita Non c'è più Non c'è più Una piattaforma Signori Non c'è più Una piattaforma Ok Non so più Dove Nascondermi Ok Ottimo Sto evitando Il tintofono Che È quello Che mi Crea più Problemi Forza numero Tre Manca Pochissimo Eh lo Vedo Lo Vedo Attenzione Eh no Stavolta Mi ha Preso Ok Mi sta Creando Veramente Un sacco Di problemi Ragazzi Veramente Un sacco Di problemi Probabilmente Non parlerò Più di Tanto Adesso Ok È caduto giù Sì è caduto giù Attenzione Neh Non so dove Nascondermi Ok Ho ancora Una protezione Ok Respinto Respinto Eh vabbè Velocissimo Non riesco Coloriamo Tutto Coloriamo Tutto Ok Dov'è Non ho Non ho più Protezioni Signori Non ho più Protezioni Mi sta Creando Veramente Un sacco Di problemi Eh vabbè Mi ha splattato Ok Devo rifare Tutto Mamma mia Che roba Lunghissima Eh più che altro Il problema Più grande È che non c'è Una piattaforma Dove Muoversi Non riesco a muovermi Veramente Ok Una protezione Presa Questo Lo attiviamo Subito Spona Ciao Spona Ah Mi faccio Portare via Le protezioni Però anche Da quelli lì Guanto Guanto Ok Perfetto Beh questi qui li posso lasciare Posso lasciare che si schiantino Uno Accidenti È andato a segno È andato a segno Ok Vieni 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 col guantone Dai che ti aspetto Perfetto Ok Via Fallo fuori Ottimo Ok Ok Perfetto Ok Siamo tornati nello stesso punto di prima Buono Ok Ok Evitato il tintofono per un pelo Eh Questo è andato a segno Ed è andato a segno anche questo E mi ha sbuttato giù Ok Dobbiamo rifare tutto da capo Ok ragazzi Eccoci tornati Mi sto di nuovo dirigendo Verso l'ultima piattaforma Perché purtroppo prima Ho terminato tutte le vite A disposizione Eeeh Sono questi qua Che mi stanno creando Non pochi problemi Ok Più che altro è un gran casotto Quindi se mi sentite Silenzio Abbastanza silenziose Perché non Non riesco Se no a concentrarmi Ok Siamo tornati qua Ok Manca pochissimo Facciamo fuori questo Perfetto Io direi quasi di lasciar Perdere questi qua Però bisogna stare attenti Sapete perché? Perché è facile cadere Ok Mandiamoli indietro Così ho spazio per muovermi Qui ricoloriamo tutto Velocemente Ok Lancia 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 pure No Di qua Ok Andato Il primo colpo è andato Il secondo colpo E manca ancora uno Eccolo Dai 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 che ce la faccio Dai che ce la faccio Ce l'ho fatta? Sì Ce l'ho fatta signori Incredibile Incredibile Ce l'ho fatta Fatta Mamma mia Signori Mamma mia La seconda volta È stata anche più facile Rispetto alla prima volta Non so come mai Ciao ciao Polpo bot Adesso esploderà in mille pezzi Rilasciando il pesce scossa Voilà signori E' esploso Mamma mia che Fantastica battaglia Perfetto Perfetto Ragazzi abbiamo completato la storia Vediamo cosa ci dicono le sea sirens Vediamo 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 notizia splash anche se a quest'ora non c'è nessuno cosa sarà mai successo a quest'ora della notte il gran pesce scossa e di nuovo coloropoli fantastico gran ritorno davvero che notizia bomba chissà dove era finito forse non lo sapremo mai l'importante che sia tornato al suo posto perfetto signori viva l'happy ending una canzone per festeggiare non è un po' tardi? Bah chi se ne importa Va bene ragazzi abbiamo completato la storia Questi qui sono i titoli di coda pensate che potete colorare Ok perfetto Si può colorare per vedere chi li ha creati Chi ha creato diciamo questo gioco Fantastico veramente fantastico Ok direi che con questi titoli di coda possiamo salutarci Ragazzi spero che la modalità storia di splatoon vi sia piaciuta Come sempre ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate condividete iscrivetevi al canale Mi raccomando non perdetevi le mischie mollusche di questa settimana E ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su splatoon Alla prossima ragazzi